Musica Potente appare ragazzi Quax l'ho giungato Sono da sole Sono qui a presentare Su un nuovo video Che ragazzi E' il quarto episodio Della serie Andiamo a rio Perché noi Ci vogliamo andare Allora innanzitutto Vi volevo ricordare Di passare la FIFA Quando stessi siete interessati A comprare E di FIFA E secondariamente Vi volevo spiegare Il motivo Appunto della mia Non presenza Della mia faccia In questo video Perché come voi ben sapete La mia webcam Ha un problema Che si chiama Funziona un po' si Un po' no E ciò cosa comporta Che in qualche video Mi funziona la strada Mi registra bene Tutto Ma in qualche altro video O non mi registra affatto O mi registra male Male E questo qua E' il video In cui non mi registra affatto Infatti non mi parte Non mi parte Quindi è una cosa Un po' poco tattica Speriamo che il tutto Si risolva Se no sono costretto Appunto a prenderne Un'altra cosa Che farò comunque A breve E poi Un'altra cosa Che volevo dire Che ovviamente Vi volevo ringraziare Per tutto il supporto Che mi state dando E per tutti i mi piace Che mi state dando E tecnicamente parlando Se questo video Esce il giorno In cui voglio farlo uscire Quindi 6-6-2014 Oggi E' finita La scuola Ma il vlog apposito Appunto lo farò O domani O dopo domani Perché domani Allora perché Tecnicamente parlando Per un macello di gente Finisce domani Perché io oggi Quindi mentre voi Starete vedendo questo video Starò fuori ovviamente Tutto il giorno Perché essendo la scuola E' finita Bisogna festeggiare E perché invece Dopodomani Perché Se ci fate caso L'8 giugno del 2013 Io ho caricato Il mio primo vlog Solamente che l'avevo caricato Di sabato Per questo penso comunque Di caricarlo domani E non dopodomani Quindi mi vi auguro Buona festa anche a tutti voi Tranne per quelli Che hanno l'esame Mi spiace assai Comunque Banno le cianci Ciancio bandiamo Ho rifatto la squadra Come avete visto Nell'ultimo video Nella fine dell'ultimo video E andiamo a cercare I nostri sfidanti In questo episodio Innanzitutto Dato che non c'è la facecam Farò poche partite Quante cercherò di farne Dunque cercherò di farne Il meno possibile Sono due Perché infatti Ci mancano due partite Per arrivare Alla finale di Rio Oh my god Andiamo a vedere La squadra Mio dio Balotelli 4-2-3-1 E questa è buona E sì E mi sa di sì E mi sa di sì Vabbè Noi ci proviamo Maicon per Gonzalez Gonzalez si prova per Suarez Pala per Hulk Hulk passa in mezzo a due Va in mezzo La va a mettere Per Ha sbagliato Ma non possono essere Così forti i portieri Luis Gustavo Mamma mia Mamma mia che 1-2-3-4 Mamma mia Ronaldo Ronny Ronny se ne va in mezzo La mette dove c'è Suarez Che Ancora non ci arriva Ronaldo Ronaldo Oddio Ronny 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 1-0 Cristiano Ronaldo Il 33esimo Daie E dunza dunza Daie Bravissimo Dai Suarez Dai Suarez Suarez per Hulk 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 Boom C'è gol 2-0 Due pacchetti per noi E andiamo Mamma mia Che cambio di gioco Hulk Tiratemi da lì C'è Quanto è bestia Quanto è bestia L'incredibile Hulk 3-0 Bravissimo Gonzales 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 Avanza La mette in mezzo Cristiano Ronaldo Ancora in mezzo Oh mio dio Che gol 4-0 Luis Suarez Al 60esimo Boom Palo Gol 5-0 74esimo 5 pacchetti Mamma mia Finita ragazzi Vinto 5-0 Adesso al posto di aprire subito i pacchetti Andrò a fare la seconda partita E i pacchetti li aprirò alla fine Proprio prima della finale Apriamo solo questo pacchetto In cui troviamo Riccardo Costa Minghi 80 set di testa Buono Mio dio Andiamo a vedere la squadra 95 di intesa Anz Oddio Drogba Torres Questi fa male Eh sì Suarez Suarez Oh Oh Oddio Mettile in mezzo Sì Madonna Ha fatto ancora un miracolo Ma intanto Noi ci portiamo in vantaggio Al 53esimo Dai E tu E tu Dai Dai Oh porca miseria Non è giusto Non è giusto No ma dai Oh Ma che palle Dai Ronnie Macina calcio Macina Hulk Dio Siavi Martinez Siavi Martinez Suarez Suarez Uh Ma che è ancora Miracolo del portiere suo Boom Traversa No ma io non ci voglio credere E andiamo 2 a 1 Al 111 Ed in zecco Dai Oh Ronnie 3 a 1 3 a 1 2 pacchetti 2 pacchetti per noi Opla Quanto Mi scuso Con voi Però devo farli Come voi Ben sapete Perché così Ho più possibilità Di aprire altri pacchetti 4 a 1 E' finita ragazzi Abbiamo vinto 4 a 1 E adesso Ci vediamo Appunto appena sono riuscito A portarmi i crediti Per aprire altri pacchetti Ed eccoci qua Ad aprire i pacchetti Allora per prima cosa Andiamo a scendere il Kinect Perché come ormai Già ben sappiamo La nostra Xbox Ci sente Ovviamente Per trovare dei buoni giocatori Ci deve sentire Quindi Accendiamo il nostro Kinect E andiamo a sbustare Ovviamente Avrò 8 pacchetti disponibili Perché ho vinto 5 a 0 Se non mi sbaglio La prima partita Con 5 gol Di differenza 5 red di differenza Mentre la seconda Che è finita 4 a 1 E l'ho vinta dunque Con 3 Comunque A noi ragazzi Cosa ci serve Ci servirebbe Cavani Oppure anche un altro ATT Che sinceramente Non è che mi sia piaciuto tanto Suarez Il top sarebbe Un buon difensore Come Dante Vediamo Come Dante E troviamo Un Cdc Uruguayano No 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 Neuer Julio Cesar Non lo so Non so neanche chi voglio Ho pensato che alla fine Non fanno intesa Fellaini Che schifo Perché ci serve Un difensore centrale Ma non ho idea di quale Difensore centrale Perché Dovrei portare Raul al bianco E R9 Che vuol dire Che mi serve Un terzino a sinistro Spagnolo Mio Dio Ma che schifo Xavi Garcia Non ci serve Miranda Mutigno Non lo so Dai eh No Non possiamo Non trovare niente Miranda O Mutigno Ci si potrebbero servire E poi Miranda O Mutigno Va bene Anche Dante Strutman Non ci serve Quadrado Non ci serve Baccali Mamma mia Ultimo pacchetto Non abbiamo trovato Assolutamente niente Di buono O meglio Che ci serve Mamma mia Scandaloso Non abbiamo trovato Niente Vabbè Trank Comunque ragazzi Detto questo Spero che anche questo episodio Vi sia piaciuto Mi raccomando Ci manca solo la finale Quindi per la finale Vi voglio tutti stracarichi Quindi Dovete lasciare un bel mi piace A questo video E Se questo video raggiunge I 4.000 mi piace Farò Il video della finale Ma lo farò anche se non li raggiunge Però Trank No comunque Appunto Se potete lasciate un bel mi piace Che come sapete Mi fa sempre piacere E comunque Ovviamente commentate anche Nessuno ve lo vieta E comunque Detto questo Io vi dico che Non so appunto Quando uscirà la finale Perché appunto Dovete vedere Quando farò il vlog o meno E comunque Detto questo Vi risaluto E vi dico potente A pala Sì Nel prossimo video Bolla Ciao a tutti Ciao a tutti